Sì, c'è... Cosa è? Non è la sega circolare La sega circolare... La sega è ganato, ma di fianco c'è anche la... Sì, con il mio spaccadetto Quello affare lì l'ho usato a farmi un scontino nell'aceto Ah! Quella tavoletta di olivo Poi il mio amico lì me la... Non ho le catene a bordo Usiamo un sacco Quanto vivo al popolo dietro? Senti dov'è essere? Eh, era quello Bellissima... Qua lo vuoi si filmare però? Eh, ma si filmare... Ah, ma si filmare allora? Sì, sì... Oggi è il 27 luglio 2008 Non vediamo l'ora di andare in ferie Ah! Sì, sì... Oggi è il 27 luglio 2008 Esatto... Esatto... Non vedo l'ora di andare anche a mangiare perché comincia a farsi in un certo orario Siamo al raduno che si è tenuto a Ponte Decimo Adesso siamo durante il giro di Passerella con tutte queste trabole Passerella... Che poi qui non ci vedono tanti, eh! Per essere proprio pesci Quello è vero! Ci stiamo arrampicando su una qualche sorta di montagna dell'Apennino Ligure Qua adesso c'è un rallentamento Ignoriamo i motivi di questo rallentamento Eh, ce l'incorso anni 70 Adesso facciamo una doppietta Mettiamo la prima Alla faccia di chi dice che non si può mettere la prima in movimento Adesso ci regheremo in un posto che non mi ricordo dove Ma si mangia sul fuggine giù Come li fine ragione Ma anche tu mi fai una bella domanda Mi sono definizzato però che l'ho fatta Oh! E che è? Non ho voluto fare l'imitazione di Lino Bambi Ah! Eh eh! Perché non è riuscito molto bene! Non mi è venuta No perché non ero preparato Qui senza cinture Come potete sentire